Ciao! Fate un passo a mano! Dittemi qualche cosa, che abbiamo fatto oggi ragazzi? Abbiamo raccolto tantissimi rifiuti e soprattutto dei pannolini! Siete stati bravissimi! E' un guatto di plastica! Un guatto di plastica eh! Una pallone! Va bene! La plastica è una brutta cosa! Una brutta cosa, sei buttata via così! E' una bruttissima cosa, ma voi siete bravissimi! Grazie! Che la riconosci! Maestro è un'americana! Abbiamo anche il segretto! Una sigaretta! Questi sono i risultati! Purtroppo eclatanti! Però, adesso il mondo è un pochettino più pulito! E qui abbiamo anche il preside della scuola, e alla quale chiediamo, chiediamo, signor Preside, da cosa scaturisce questa iniziativa? Cosa avete fatto? Cosa... Ci spieghi un pochettino! L'istituto comprensivo di Mesola e di Goro ha aderito all'iniziativa di Lega Ambiente! E questo è il risultato di poco o più di un'ora di attività dei nostri ragazzi della primaria! Credo che un'azione del genere parta dal piccolo, ma dia davvero il segno di cosa si può fare nel concreto, per cui nulla di eplatante, ma qualcosa di davvero clamoroso che può essere messo in atto dai nostri ragazzini, per cui è un'attività assolutamente lodevole alla quale aderiamo con piacere! E aggiungiamo un'attività altamente educativa! Assolutamente sì! Per noi adulti che abbiamo la responsabilità di tutto ciò e che probabilmente abbiamo provocato questo! Non c'è dubbio! Per cui ognuno di noi ha una responsabilità attiva in tutto ciò e per i ragazzi che hanno necessità di capire fisicamente, con le mani, quello che c'è da fare nel piccolo, ma è davvero qualcosa di grande! Grazie, se ne presto! Grazie a voi! Bravissimo! Bravissimo! Occhio! Brava! La nostra bandiera di Puliamo un mondo! La nostra bandiera di Puliamo un mondo! Tira lo suo al cuore! Tira lo suo al cuore! Siamo 26! Bravi! Bravi, bravi, bravi! Grazie! Grazie! Grazie!